La misericordia di Molfetta compie 20 anni, 20 anni di servizio volontario a disposizione dei cittadini molfettesi e dei loro bisogni, bisogni che cambiano, bisogni che crescono, bisogni che si trasformano in emergenze ed è proprio all'emergenza che i volontari in divisa Giallociano cercano di dare risposte ogni giorno dal 1999, tema caldo a cui hanno voluto dedicare anche i due giorni di festeggiamenti del ventennale, e cioè il 25 e 26 maggio. 20 anni di storia per la misericordia di Molfetta, sono 20 anni di attività, attività in tutti i sensi, sia manifestazioni sportive, raccolte fondi, aiuto al prossimo che sono poi le cose che regolano il nostro movimento, il movimento delle misericordie, una grande famiglia, una grande storia, insomma, tanti anni di storia, per cui da noi sono passati giovani, sono andati via e abbiamo fatto tante bellissime cose, cose che ci hanno riempito il cuore perché chiaramente le facciamo con amore. È un appuntamento importante come tante altre misericordie che da anni perseguono finalità e quindi obiettivi di essere vicini al prossimo sofferente. Questa è una grande soddisfazione. Nella mattinata del 25 maggio sarà organizzata una esercitazione di pubblico soccorso che vedrà attivarsi la colonna mobile dell'area emergenze della misericordia di Puglia, coordinate da Gianfranco Gilardi, presidente regionale della Federazione delle Misericordie di Puglia, e da Gianni Detrizio, responsabile provinciale della protezione civile BAT, oltre che lo staff delle psicologhe delle misericordie, coordinate da Valeria Minervini, proprio psicologa della misericordia di Molfetta. Ma l'appuntamento con la psicologia dell'emergenza continua anche alle ore 16 presso la sala consigliare del comune di Molfetta, con un convegno patrocinato dall'Ordine degli Psicologi Puglia, dal titolo La città resiliente dalle maxi emergenze alle micro emergenze quotidiane. Abbiamo voluto organizzare un convegno che trattasse proprio il tema della psicologia nell'emergenza, in realtà proprio per descrivere meglio quello di cui noi ci occupiamo. Come misericordia di Molfetta ci occupiamo di emergenze in realtà ogni giorno, quotidianamente. Abbiamo previsto degli scenari dove si articoleranno in tutta la mattinata e anche al pomeriggio diverse situazioni, quindi soprattutto sarà tutto articolato sotto un'unica veste che è quella della maxi emergenza. La domenica del 26 maggio si aprirà con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Cornacchia che avrà luogo presso la Chiesa Santa Famiglia di Molfetta. Ieri la presentazione in comune alla presenza del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, un cammino che dura da vent'anni e che la misericordia di Molfetta, hanno spiegato gli organizzatori, intende a ripercorrere come ha fatto finora, tra la gente per la gente, con un bagaglio di esperienze in più e l'entusiasmo di sempre. È un anniversario importante, la misericordia ha dato dei contributi importanti, adesso il nostro obiettivo è quello di raccordarle con le altre associazioni che fanno queste attività, questo lavoro, per far sì che migliori l'intero sistema di assistenza e dei bisogni vecchi e nuovi, soprattutto i nuovi bisogni sempre più emergenti in una città complessa e grande come Molfetta. Grazie.